Qual è il risultato importante? Potremmo un risultato importante. Per avere un risultato importante devi andare forte e essere consistente in 90 minuti e per un lungo tempo, per molti match. Questo è quello che ho detto quando ho detto che devi sapere la realtà in cui siamo. Siamo in questa realtà, quindi devi riconoscere i punti. Ma anche l'ultima settimana avevamo riconoscere i punti di Arsenal. E abbiamo fatto. Qual è il risultato importante? Non mi ha pensato. Voglio riconoscere il target. Non ho pensato niente. Sono solo concentrato per preparare il treinamento, per fare un buon treinamento. In questo caso mi ha pushato i punti di andare forte, per capire che siamo, dove siamo, chi siamo e cosa possiamo fare. E cosa devono imparare loro a fare, insieme. È importante avere un team, ma giocare come un team. E rispettare il plan in gioco. Clici che non mi ha attaccato quello che sta in pressione. Grazie.